Antonio mi sembra abbastanza bene finora. Adesso però andiamo con una domanda sull'inizio del programma. Motivo di sparizione dalla faccia della terra dei dinosauri. Antonio Albano ha detto che sono stati gli uomini. Non è niente professore, comunque è una meteorite. Bravo, bravo. Adesso andiamo con la parte del programma più recente. Anno di scoppio della rinunzione francese. Guarda però qui, per favore. Guarda, 1789. Sì, ho capito, 1789. L'ho sentito molto bene. Gira quel computer, per favore. No, professore, no. Gira quel computer, ti ho detto. T'ho detto girare il computer. Professore, non l'ho mai fatto, professore, veramente. Sì, ma la smetta, si vergogni.